Sono Alessandra Mastronardi e sono qui per un appello urgente. Con Unicef ho conosciuto luoghi dimenticati, luoghi dove vivono bambini come Favur, che ad appena un anno conoscono già l'agonia di una pancia vuota. Eppure con 9 euro al mese può dare a Favur l'alimento terapeutico che le salverà la vita. Tutto qui. Chiama subito all'890 0078 e dona 9 euro al mese. Oppure visita il sito unicef.it Insieme possiamo fare tanto. I medici e gli infermieri dell'Unicef potranno curare i bambini anche grazie alla tua generosità. Tutto quello che serve sono 9 euro al mese. Ho visto con i miei occhi i bambini salvati dall'Unicef. Quindi per favore, chiama subito all'800 90 0078 o visita il sito unicef.it e dona anche tu 9 euro al mese. Grazie. Grazie. Grazie.